3, 2, 1, go! Buongiorno ragazzi e ragazzi Oggi sono ritornata qui con un nuovissimo video Ovvero il preferito del mese Coco che mi sente E fa l'intro anche lui Bravo Coco! Mi ha risposto? Taratatatappa Taratatappappa Taratatappappa Vabbè Allora ragazzi Facciamo Questo è il video preferiti del mese Coco assieme a noi Allora Prima di tutto Vestiti del mese Vabbè i soliti pantaloni Perché comunque sono da scuola Indosso sempre i soliti pantaloni Cioè i pantaloni Sempre E poi un leggings dell'Aidas Che ho preso ultimamente E poi Ancora e poi Questa che è praticamente La felpa dell'Aidas verde Che ho preso Ultimamente Ultimamente E ora mamma La messa a lavare Quindi Eccola qui Vabbè comunque La conoscete Se magari Volete vederla meglio Andate Vi lascio Nella Info Il video Del Del LOL Dove Ho fatto vedere anche Quella felpa Vabbè Andiamo avanti Scarpe del mese Questo mese Ho utilizzato Tantissimissimissimissimissimo Le mie Le mie superstar Perché Sì Sono Comodissime Poi sono calde Perché le superstar Io le trovo calde Non so il perché E mi piacciono tanto E niente E sono sempre le solite Olografiche Magari Cambierò Quest'anno Chiederò Natale chiederò Non lo so Chiederò dopo Natale Non ci so Raga Per ora sto utilizzando queste Perché sono ancora Nuovissime Di zecca E comunque Mi ci trovo comodissime Quindi perché Buttarle Anche perché Il piede per ora Non è cresciuto Quindi Questo è 38 e mezzo Se non mi sbaglio Vabbè Accessorio del mese Allora Accessorio del mese I miei orecchini Pandora Che non so Ma sono storti Ok Credo Le ho messo giusti Ora sì I Gli orecchini Pandora Che sono Gli orecchini Pandora E poi Questa Che appunto Se avete visto LOL Fate sentito Vabbè Se avete visto LOL Di Coco Per ora Basta È Coco Ok Se avete visto LOL Tipo Verso Giugno Maggio Di Primark Perché Primark Non è ancora aperto In Campania Perché Avevamo preso Questa candelina Carinissima Questa qui Pagata un euro E non l'avevamo Ancora utilizzata Perché non era venuto L'inverno E tutte queste cose qua È molto Molto buono Come l'odore Odore Odora tantissimo Di fresco Pulito Poi infatti Già abbiamo Consumato un po' Di pezze Infatti Stanno Rottissima Dentro Però vabbè Però devo essere sincera Non è che Prefuma tantissimo Però Se Aspetti un po' Odora tantissimo E quindi Niente Molto molto buona E vabbè Poi serve il solito Codino A portata di mano Poi Andiamo avanti Allora Cover del mese Vidro Ok Perché Cosa Cosa È successo Allora Appunto Cover del mese Vi dovrei dire Quella Dell'apple Rosa Però Sinceramente Vi dico questa Perché è stra bella E la mia Si è rotta Quindi Ho presa Vabbè Già lo sapete Perché vi ho caricato Il video Poi Cosa più bella Del mese Ci sono due cose In atto Che Secondo me Sono bellissime E spero che Voi siate Molto felici Per noi Perché veramente Noi siamo stra contente E le vedrete Non troppo tardi Tra un po' Sul canale Perché manca poco E vedrete due cose Stra stra carine Che Sono bellissime E niente Quindi Vi caricheremo I video Su youtube Le foto Su instagram Magari Ci sarà qualche Musical.ly Per una sola cosa No Forse anche per due cose Non si sa Due cose Sì E quindi Troverete Tutti Tutte queste due cose Su tutti i social Quindi se non avete Magari instagram Lo scoprirete su youtube Se non avete Comunque noi su instagram Ci chiamiamo Margie Giulia Kawaii Se lo avete Trattino basso Official E poi E poi Su musical.ly Quindi se non avete Instagram Avete music TikTok Magari Noi ci chiamiamo Margie Giulia Kawaii Trovate queste notizie Lì sopra Però Il principale Sarà su youtube E io sono stra stra felice Stiamo condividendo Questa cosa Io e Giulia Stiamo anche Ci stiamo lavorando Un pochettino Sopra Perché comunque È una cosa un po' Su una cosa un po' Dobbiamo un attimo Sistemare Tutti i dettagli Però Comunque Ci stiamo impegnando E lo scoprirete Tra un po' Manca pochissimo Raga E niente Andiamo avanti Cosa più brutta Del mese Ok È passato tutto Per fortuna Perché Era tutto Giusto Come cosa Vi faremo il video Ci hanno contattato Appunto Le persone Che gestiscono youtube E ci hanno detto Certe cose Che poi scoprirete Nel video Che vi dobbiamo caricare E registrare E niente Quindi È questa la cosa Un pochettino Più bruttina Però È passata Per fortuna Però comunque È in questo mese E quindi si doveva Dire Il video del mese Allora Il video del mese La telepathy challenge Non quella di Halloween Quella La prima che abbiamo fatto Che è andata in tendenza In tendenze Yeah Siamo contentissimi Siamo forti tutti assieme Yeah E poi Se vi dico Mosca Zzzzzzzzzzzzzzzzzzz Vi viene qualcosa In mente Comunque Se non vi viene Niente in mente Ve lo lascio Qui Nella I Delle info E Ah no Di qui Vabbè Ragazzi Un po' Strano Comunque cosa Però non so Se qui Qui Vabbè Qui Poi Canzoni del mese Mi piace tantissimo Però ora non ce l'ho scaricata Perché non mi ricordo dove si chiama Però credo era in giove Comunque quella Mi passano a prendere Corre a giove Nuove balenziaga Nuova tipa con me Più mi dicono Fai schifo Più io penso Vabbè Soldi nello champan Sugli scienzi di lise Yaya E poi un po' di canzoni di Rama Ma Poi Sono tantissime Quindi non Vi sto qui ad esempio Anccare Tutte Poi App del mese Allora Sempre totem Che è molto carina E poi Questa Però ragazzi Mi ha tenuto un pochettino Perché io sono arrivata Al livello 200 Ed è Cioè Non mi fa più giocare Cioè Io ora sto giocando in arcade Cioè Quella cosa che Tipo Puoi giocare all'infinito Però Voi che magari avete totem Perché me l'avete scritto Giù nei commenti Scrivete Scrivetemi Datemi dei consigli Se voi Avete passato il 200 A me non mi fa più andare Avanti Cioè Non so come Come passare il 200 Cioè Non è che mi fa provare A giocare Cioè Fa proprio così Guardate 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 Tutti In tutti gli altri Livelli Oppure Devo fare qualcosa Perché Non lo so Sinceramente E quindi Niente Questo è tutto Va bene Quindi niente ragazzi 3 Quindi ragazzi Questo era il video Spero vi sia piaciuto A me È piaciuto Tantissimo Iscrivetevi a Instagram Marghe Giulia Kawaii 3 Un basso Official Su Facebook Marghe Giulia Kawaii Real Sul secondo canale Maggi TV Sul musical Il chiaccio La Marghe Giulia Reale Se volete Le maglie Le cover Le tazze Cuscine E se volete Di tantissimi altri colori Andate su www.margiulia.kawaii.it Vi ricordo Che se volete Entrare D'altra parte Della Maggi Femini Per andare Sul Stato Iscriviti Rosso Cliccarlo Non farò Diventare Grigio Attivare La campanella E questo Attivate La campanella Tra le opinioni Scegliete tutte Vi ricordo Che io Marghe Facciamo Montale Giulia Assieme a voi Formiamo La magic Femini Cioè Amore puro Se vi è piaciuto Lasciate like Commentate Iscrivetevi al canale Conditerò dappertutto Se vi è piaciuto Shhh